Beh, visto che gli elementi chimici sono abbastanza diffusi per lo spazio e visto anche che negli ultimi vent'anni si sono scoperti una quantità enorme di esopianete, cioè di pianeti solari, io penso, visto l'elevato numero appunto, che la probabilità che esistano altre forme di vita sia relativamente alta. La probabilità di incontrarci, questa penso sia estremamente bassa, unicamente per le incredibili distanze che intercorrono tra un pianeta e l'altro.